Anche il comune di Fano si rinnova utilizzando la tecnologia per superire la carenza di organico in diversi settori dell'amministrazione. Partiranno a breve i concorsi pubblici per assumere personale in quattro categorie. Si cercano sei agenti di polizia locale, due insegnanti di scuola materna, tre educatrici di asili nido e una persona per il coordinamento didattico. L'obiettivo sarà quello di realizzare una graduatoria che avrà una validità di due anni. Per i vigili urbani, per i quali sono previsti sia contratti a tempo indeterminato che stagionali, l'obiettivo con il tempo sarà quello di arrivare ad un agento ogni 100.000 abitanti e dunque 60 in totale. Per il mondo della scuola, invece, soltanto a settembre in base all'assegnazione delle classi ai vari insegnanti si potrà determinare il numero esatto di assunzioni, quindi al momento questi sono indicativi. Ciò che cambia però sarà la modalità di svolgimento perché il Comune ha deciso di passare ad un regime digitalizzato. Attraverso il cosiddetto proctoring, la prima prova, quella scritta, si svolgerà in via telematica. Questo consentirà anche alle persone positiva al Covid di sostenere l'esame da casa. Ci si aspetta una partecipazione di 600-800 candidati per il settore dei servizi educativi, perciò verranno organizzate più sessioni. Ognuna da 130 o 140 iscritti, i quali dovranno attivare sia la telecamera del PC sia quella del cellulare da posizionare alle loro spalle. Dunque impossibile copiare o sbirciare nei bigliettini, anche perché scenderanno in campo diversi assistenti, ciascuno dei quali dovrà seguire attraverso le immagini delle telecamere dai 13 ai 15 candidati. Al contrario, le prove orali e quelle di doneità fisica, nel caso degli aspiranti vigili, si svolgeranno in presenza. Il costo della ditta che seguirà l'operazione sarà di circa 35 mila euro, una cifra che sarebbe comunque uscita dalle casse comunali utilizzando i vecchi metodi. Ci saranno 15 giorni di tempo nel momento in cui sarà pubblicata in gazzetta questa procedura concorsuale per chi vuole partecipare e candidarsi a farlo attraverso una procedura digitale, quindi sarà necessario avere la PEC e una identità digitale. Dopodiché ci sono una serie di requisiti che verranno comunicati puntualmente per poter capire quali sono le categorie e i profili che potranno comunque fare richiesta.